È un sud in ginocchio, una Sicilia clientelare per mafia e politica, gli allevatori, gli agricoltori completamente a terra, allora il loro grido di aiuto è più forte di quanto pensavamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è chi come noi la crociera la fa col mulo. La bellezza è la cosa che ci ha colpito di più. Il paesaggio naturale, i laghi, i fiumi di una purezza incredibile. Abbiamo visto luoghi che forse l'uomo veramente in Sicilia ha dimenticato. E poi abbiamo conosciuto gente vera, reale, che lavora ogni giorno, che si alza ogni mattina per garantirci dei beni che sono di beni primari come la carne, il latte, i formaggi. I pescatori hanno problemi da queste parti, ma devono essere loro i primi a trovare una strada pulita a livello burocratico, che quando sono agevolati non ne devono approfittare, devono tutti seguire una linea coerente. Rispettare i fermi biologici che molti non fanno. bisogna prima amare il mare e poi andarci tutte le sue cose in apprezzo. Siamo pieni di tecnologia, però stiamo perdendo quello che è il reale gusto per la vita stessa. Le cose semplici secondo me aiutano di più l'uomo. Ci siamo accorti anche che le persone più semplici sono quelle che ci hanno aiutato di più, sinceramente. Più semplice è un uomo e più voglia di aiutarci hanno avuto. Il mulo è stato quasi una bandiera di pace per entrare dentro certe stalle, perché se ci arrivi con una jeep, con una macchina, con le telecamere, loro si mettono, sai, si nascondono, ma quando ci arrivi su un mulo, gli brillano gli occhi perché è la loro vita, il loro ricordo, i loro nomi, i loro antenati, allora quel mulo apre il dialogo fra noi e queste persone. Grazie. 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 Ciao. Grazie. Grazie a tutti i giorni. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti I tonnetti non si possono pescare I tonni grossi non si possono pescare I giapponesi poi possono pescare? I giapponesi, gli spagnoli possono pescare Noi italiani non possiamo pescare niente Ci abbiamo le barcazioni tutti in regola Io c'ho il 20 miglia Per la legge sono costretto ad andare Entro i 10 miglia con la ferrattare E nemmeno ci fanno andare Adesso la vogliono portare a 3 miglia Ancora non c'è niente A 3 miglia dalla costa Sapete che significa a 3 miglia dalla costa? A parte non si teme A parte non si piglia poca roba Però ci mettono contro Contro i motoscafi, contro gli yacht Siamo venuti qua perché sappiamo che La marineria ha gravi problemi La marineria è bagnaracata Il mare è pieno di pesci azzurri Torni, pesci spadali a lunghi E con queste leggi che non ci permettono Di poter andare con le attrezzature specifiche Per poterli pescare Siamo costretti a fare la panna Adesso noi non possiamo più sostenere le spese Non sappiamo più che cosa fare Tutta la marineria Era meglio la spadara e non il conso Con l'amo Il conso distrugge La tartaruga prende tutto il conso Se volevano rimpopolare il mare come dicono loro Il nostro governo non ci può paragonare a un paese dal nord Perché il nostro paese ha mille capitanerie E i paesi del nord hanno una capitaneria Nel nostro paese ci sono milioni e milioni di ombrelloni E loro non ce ne hanno neanche uno Allora i problemi della pesca li sappiamo noi I tonni li stanno distruggendo Li prendono Se ci riescono li vendono Se trovano quello che non ha paura Sotto sotto Senza fatture, senza niente C'è quello che li smercia E c'è quello che non è capace a smerciare Il tonno lo distruggono con questo mestiere qua Il caro gasolio che c'è Io adesso sto scendendo una rete Sto scendendo una rete La rete dell'acciughe Che nel mese di gennaio Io ho il fatturato a bordo C'ho quello che ho preso, il pescato Io a casa ho portato 90 euro Perché noi vogliamo produrre Non dobbiamo subire o recepire delle leggi illegali Così come la comunità europea al sud Manda leggi illegali Ed è rappresentata esclusivamente con la divisa La comunità europea fa al sud Bruxelles, se io vado con la spadara Non sa niente Loro La spadara non la dovevano toccare Se veramente dicono che era distruttibile C'è un mestiere che è distruttibile Che distrugge tutto Tutta la fauna marina Che loro lo sanno Che è la pesca strasciuta Io ho chiesto anche in drame giornale Un incontro con gli ambientalisti Per spiegare i problemi del mare L'ambiente, ce lo dico io che sono a mare A mare non possiamo più tenere il motore a moto Perché è caricato di plastica Di buste, di nylon, di tutto Io andavo a mare con mio padre Ero un ragazzino E però sempre la giornata si riusciva a prendere Prendevati i merluzzi Qualsiasi pesce Però andando a pesca così Il mare era sempre impopolato di pesce Da quando avevo sperimentato tutte queste paranze qua? Ma non a livello qua solo di bagnare A livello per tutta l'Italia Quella sì, hanno rovinato il mare Le barche ancora dovevano andare a mare E loro non ci hanno tolto anche la pesca accidentale del tonno 270 kg E il dilettante lo può prendere Uno al giorno da 90 kg Il pescatore no Perché sono tutti contro i pescatori E con questo io ho finito Che il mare è inclinato Tutto quando stavo tolciato Tutto quando la boccatura Se aveva picchiava il mare nostro Il mare nostro che era azzurro E ora si viene sempre più a calcio il mare Tutto quando è inclinato E i pesci non devono venire Se voi ammazzate lo stesso il mare Quando è inclinazione Cagano il mare A boccarlo Poi dobbiamo A giornata lo facciamo sempre Avevamo una vita Che lavoravamo Dopo il mio 63 anni 63 anni Alla giugna la parte Ma mia figlia non può Noi C'erano I pesci spati E ma cosa mi può usare Il pesci sta partendo Anno per anno Perché lo prendiamo In tutto fondo Lo prendiamo A 500 passi d'acqua A 500 metri d'acqua A 700 metri d'acqua Il pesci non fu mai toccato Un mazzavano Che la mazzarella E noi C'erano A 500 metri d'acqua Pigliavamo A 15 metri d'acqua E ora è pigliato A 700 metri d'acqua Proprio Che era che dormiva Come i nostri vecchi